Musica Pronto soccorso Ferrari, un medico di turno e notti scoperte, il sindaco di Portoferraio sconcertato, attiviamoci noi sindaci con iniziative molto dure. Capitaneria, tre soccorsi in mare per il forte vento, giornata impegnativa quella di ieri per la guardia costiera, le imbarcazioni trainate e i normeggi sicuri. Furto con scasso, venerdì notte al bar La Pionda, qualcuno si è introdotto dal retro, spaccando una finestra, sottratto un fondo cassa di 200 euro circa, indagano i carabinieri. Distrutte le strutture di accoglienza dell'area del puntale, realizzate e abbattute, cartello del parco di Vento, panchine inutilizzabili. Si pensa a un atto vandalico all'uscita di strada di un'auto. Musica Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di sanità, o meglio a parlarne il sindaco di Portoferraio, che dice un solo medico reperibile al pronto soccorso con notti scoperte. Mario Ferrari si dice sconcertato e avverte, noi sindaci dobbiamo attivare iniziative molto dure e se questo è vero, dice ancora, perché con la salute dei cittadini non si scherza. Ecco la comunicazione del sindaco a tutti i cittadini. Lo sentiamo. È una presa d'atto, purtroppo non positiva, di un documento che mi è stato fatto pervenire. Ci sono stati degli incontri con l'ASL, ci sono state delle evidenziazioni delle problematiche relative soprattutto al pronto soccorso, di cui abbiamo avuto anche modo di parlarne. Pochi minuti fa mi è arrivato il documento della reperibilità. Può darsi sia una copia che sia stata superata da altre decisioni o determinazioni, però la cosa sconcertante e veramente preoccupante è questa, che nonostante tutti gli impegni e le promesse c'è un solo medico praticamente 20 giorni su 30 la mattina al pronto soccorso e il raddoppio al pronto soccorso, come era stato ipotizzato, garantito, promesso, per quanto riguarda il pomeriggio non c'è nessuna integrazione, ma soltanto un unico medico dal primo al 31 luglio e quello che salta ancora di più agli occhi in maniera preoccupante è che durante il turno notturno molte, anzi moltissime, sono le notti senza il responsabile del pronto soccorso e questo non è una cosa che riguarda me, ma riguarda tutti, riguarda tutti i cittadini, tutti gli ospiti, tutti coloro che vivono all'isola d'Elba. Io mi auguro che quanto prima chi di competenza possa smentire quanto io vi ho appena detto, ma ve l'ho detto perché quello che mi è stato consegnato è il turno di reperibilità del pronto soccorso. Auguriamoci che questo non corrisponda a verità, ma se così fosse credo che sia obbligo non tanto mio, ma anche di tutti gli altri sindaci, prendere e attivare iniziative non dure, ancora di più, perché sulla salute dei cittadini non ci si può giocare, è la cosa più importante che abbiamo da salvaguardare in questo momento. È stata una domenica impegnativa per la Guardia Costiera, quella di ieri domenica, soccorse tre barche in difficoltà a causa del forte vento di Scirocco che ha imperversato per tutta la giornata. Le imbarcazioni sono state tutte trainate in ormeggi sicuri da capitaneria e ormeggiatori. La giornata di domenica ha visto il personale della Guardia Costiera impegnato in operazioni di assistenza a diverse imbarcazioni in difficoltà a causa del forte vento da sud. Poco prima delle nove di domenica mattina, tramite il canale radio di emergenza VHF16, arrivava la segnalazione da parte dell'imbarcazione da di Porto Bomar, situata a circa un miglio a nord della spiaggia delle Viste. Il proprietario diceva di avere i motori in avaria. Il personale della capitaneria a bordo della motovedetta CP892 si accertava delle buone condizioni dell'equipaggio e prestava una prima assistenza all'unità in difficoltà, trainandola all'interno della rada di Porto Ferraio in acque tranquille. Nel frattempo, dalla sala operativa della capitaneria è stato coordinato l'intervento da parte degli ormeggiatori locali che completavano il trasporto del natante verso i cantieri Esaom. Intanto, a metà mattinata, tramite il numero blu 1530, un'altra segnalazione riportava di un'imbarcazione da di Porto, la Scica Camata, che sempre a causa del forte vento aveva rotto gli ormeggi dal campo boe di San Giovanni, e stava andando alla deriva trascinando con sé una vicina imbarcazione a vela battente bandiera inglese. Ancora usciva la motovedetta per una prima assistenza, mentre dalla sala operativa della capitaneria veniva ordinato l'intervento degli ormeggiatori locali per trainare la Scica Camata in un nuovo punto di ancoraggio nel campo boe di loro competenza. L'imbarcazione a vela inglese, debitamente assistita, veniva portata nella Darsena Medicea, dove infine ormeggiava al sicuro. Passiamo alla cronaca del fine settimana. Furto con scasso nella notte al bar La Bionda. Con il buio qualcuno si è introdotto dal retro, spaccando la finestrella, e dopo essere entrato si è impossessato del fondo cassa di circa 200 euro. E poi l'assalto anche al chiosco che si trova nei pressi del campo sportivo. Non c'erano ovviamente soldi, ma i ladri si sono accontentati di prosciutto. Adesso indagano i carabinieri. Furto con scasso nella notte al bar La Bionda, noto locale adiacente allo stadio comunale Antonio Lupi. È successo tutto nella notte tra venerdì e sabato. Qualcuno si è introdotto in qualche modo nel piazzale interno del carburo ed ha attaccato una finestrina nel retro del locale, sfondando nel vetro per aprirla e introducendosi successivamente nella struttura. I malviventi hanno potuto agire indisturbati e avrebbero portato via la cassa con circa 200 euro. A pochi metri di distanza è stato assaltato anche il chiosco del carburo. In assenza di denaro i soliti ignoti si sono dovuti accontentare invece di prosciutti e altri prodotti alimentari. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Portoferraio. Ancora atti vandalici, distrutte le strutture di accoglienza dell'area del puntale, palizzate abbattute, un cartello del parco di Velto e panchine inutilizzabili. Le ipotesi sono due o a un atto vandalico vero e proprio oppure all'uscita di strada di un'auto. Le strutture di legno però erano marcite e deteriorate. È urgente un intervento per risistemare la zona. Non c'è pace per l'area del puntale dell'Acquaviva, zona panoramica situata nella strada che collega a Portoferraio all'Enfola ed oggetto di polemiche da quando, nel 2003, vi furono installate delle antenne di ripetitori per la telefonia mobile. Pur mascherate in qualche modo, le antenne sono state da subito motivo di contestazione per il loro pesante impatto ambientale. Le polemiche del resto non si sono mai mitigate neanche quando la zona è stata oggetto di un tentativo di abbellimento con aiuole e palizzate che avrebbero dovuto restituirla alla sua vocazione di punto panoramico d'eccellenza. In realtà negli oltre dieci anni intercorsi dall'intervento l'area è rimasta spesso delimitata da strutture di cantiere e non è mai stata totalmente fruibile. Nello scorso fine settimana purtroppo è ulteriormente peggiorata la situazione. Molti tratti delle palizzate esistenti a delimitazione dell'area infatti sono stati abbattuti, sono state distrutte alcune panchine in legno ed è stato divelto anche un cartello segnaletico del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Inizialmente qualcuno aveva pensato ad un atto vandalico ma pare, anche se le voci non sono confermate, che il danno potrebbe essere stato provocato dalla uscita di strada di un'auto che potrebbe essere andata a terminare la sua corsa fuoristrada proprio sulle strutture in legno del puntale. Il fatto, qualunque siano state realmente le sue cause, ha evidenziato un problema destinato prima o poi ad emergere. Le palizzate e le strutture in legno abbattute infatti erano in gran parte marcite e le stesse parti in legno delle panchine non erano state adeguatamente fissate a quelle in muratura. Il risultato purtroppo è la completa inagibilità della zona, con la necessità di un intervento urgente da concordare fra Comune, Parco Nazionale e le stesse compagnie telefoniche che hanno in uso l'area, che è pur sempre la principale terrazza per l'accesso visivo alla zona dell'Enfola, una di quelle di maggior pregio ambientale di tutta l'isola. Ci spostiamo al rio nell'Elba, alla pulizia delle spiagge hanno partecipato anche dipendenti in ferie, un altro giorno insomma dedicato a interventi ambientali. 15 persone hanno portato via circa 25 sacchi di spazzatura. Nuovo weekend di pulizia delle spiagge al rio nell'Elba. Dopo i mangani, sistemati pochi giorni fa, stavolta è toccato alle spiagge di Zupignano e delle Secche e anche stavolta è impressionante la quantità di rifiuti raccolti e portati via dalla costa. 15 volontari, ha detto il sindaco Claudio De Santi, eletto un mese fa, hanno portato a smaltimento oltre 25 sacchi di sola plastica. Fantastico! Ancor più sorprendente venire a sapere chi c'era, non solo volontari, cittadini e amministratori, parte della squadra di De Santi. Con noi fa giustamente notare il sindaco anche i dipendenti comunali in ferie. Evidentemente a rio Elba, tra i sostenitori del primo cittadino e i suoi collaboratori, si respira un entusiasmo contagioso. Si trova all'isola d'Elba, la tenda da campo di Napoleone. La struttura restaurata e visitabile nella Galleria Demidoff della Villa di San Martino, esposta per la prima volta da Iaccio, solo nel prossimo inverno sarà trasferita a Parigi. Vediamo il servizio. Inaugurata nella Galleria Demidoff della Villa di San Martino, residenza napoleonica, la mostra che terrà in esposizione fino al prossimo 15 ottobre la tenda di campagna dell'imperatore Napoleone. La mostra è il frutto di una collaborazione Italia-Francia con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, con il Mobiliar National e la Fondazione Napoleone. Sostengono l'iniziativa la Regione Toscana, la Fondazione Livorno e la gestione associata per il turismo dei comuni dell'Elba. Dottoressa Davide, qualcuno ha definito una premiere quella di oggi, uno degli eventi più importanti delle celebrazioni napoleoni? Sì, beh, questa è una premiere per l'Italia sicuramente, perché la tenda è stata già esposta al Museo di Agiaccio e poi ci hanno riferito che sarà esposta a Parigi nell'autunno. È uno degli eventi più importanti però delle celebrazioni legate al bicentenario di Napoleone all'Elba e quindi siamo molto orgogliosi che abbiamo potuto oggi avere questa grande affluenza anche di interesse di pubblico e di stampa, perché è una cosa decisamente interessante ed importante. Presente alla cerimonia anche il vice sindaco di Portoferraio Roberto Marini, che ha ringraziato anche l'assessore che lo ha preceduto, Antonella Giuzio. Se non ci fosse stata la possibilità di lavorare assieme con il Ministero, con le Mobiliè, che è detentore sostanzialmente di queste opere importantissime, storiche, e la Regione Toscana, insomma tutto il territorio ha risposto e il risultato è stato questo. Il risultato è importante, questo museo d'Emidoff dove è esposta la tenda è il secondo museo per frequentazione della Toscana. Mi auguro che con questo pezzo importante che abbiamo esposto in questo momento si possa implementare ancora di più, data la curiosità che è l'oggetto d'Esta e non solo la tenda ma anche tutti i pezzi che sono stati portati a seguito della tenda, pezzi che sono appartenuti a Napoleone. Rimaniamo in tema perché è stato ristrutturato con un intervento privato il Teatrino dei Mulini, protagonisti in accordata di imprenditori portoferraiesi coordinati da Marcello Bargellini. Il ringraziamento della sovrintendente David, un bel esempio di sinergia fra pubblico e privato. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della mostra sulla tenda di campagna di Napoleone tenuta sabato 28 giugno alla Villa di San Martino, la sovrintendente ai beni culturali David ha annunciato l'avvenuto recupero del Teatrino Napoleonico della Villa dei Mulini, che è stato completato in questi giorni grazie ad un intervento di alcuni imprenditori elbani, facenti capo a una cordata guidata da Marcello Bargellini. Marcello Bargellini ha coordinato l'importantissimo intervento che ha portato al restauro del Teatrino Napoleonico della Villa dei Mulini. Perché vi siete sentiti in dovere di prendere questa iniziativa? Secondo me oggi un'azienda non può prescindere dal sociale. Il sociale che intendo io è quello di cercare di progredire la propria comunità. Ho visto diverse cose che potevano essere fatte in questo territorio. Siccome quest'anno ricorre il quarantennale della fondazione della mia azienda, il Centro Ufficio Elba, abbiamo deciso di farci questo regalo. Abbiamo trovato la struttura del Teatrino dei Mulini, che era se non sbaglio circa 18 anni, che era inutilizzata diciamo. Ho avuto la fortuna di trovare dei validi compagni di viaggio, perché da solo non avrei potuto farlo e quindi insieme a Tesi, Elba Impianti, Vivai Campani e Impresa Edile Ferrini abbiamo creato questo pool. Io sono stato il coordinatore, ho avuto anche un grande aiuto da parte della famiglia, quindi i miei nipoti mi hanno dato una mano e siamo riusciti a portare a termine quello che è stato questo progetto. Io spero che venga apprezzato nel modo migliore dalla società e spero senz'altro che altri imprenditori possano essere spinti a dare risposte come queste sul territorio. Il gruppo degli sponsor che hanno collaborato, mi riferisco al gruppo del main sponsor Bargellini, che ha capeggiato questa cordata di imprenditori, che hanno lavorato per aiutarci a mettere a punto le residenze, soprattutto il teatrino e parte del giardino, è un esempio virtuosissimo di una collaborazione che noi dobbiamo incentivare e mantenere. Io ho detto prima, sono decisamente e fermamente intenzionata a farlo. Ben ritornati in studio e ancora mercati e balli di gala nell'Elba orientale per celebrare Napoleone dopo la presa di Capoliveri, anche Porto Azzurro, Riorio nell'Elba e Rio Marina celebrano il bicentenario. A campo domani sera l'inaugurazione di una mostra sui documenti del territorio. Continuano gli appuntamenti per celebrare il bicentenario napoleonico. Qualche giorno fa Capoliveri ha rivocato la leggenda aria presa del borgo da parte delle truppe napoleoniche. Sabato 21 giugno in paese è stato preparato l'accampamento delle truppe napoleoniche fuori del borgo. Verso sera poi sulla piazza centrale i popolani si sono radunati armati di munizioni e pietre per non farsi intimorire dell'arrivo di Napoleone che aveva annunciato di voler entrare dentro le mura. Dal bivacco è partito il corteo della Petite Armè e dei soldati a cavallo ricevuti dal mare e dal prete del paese. Lo cui sorti saranno poi decise dalla misteriosa figura scesa dalla carrozza che si è fatta a strada fra soldati, tamburini e popolani. Il programma delle manifestazioni napoleoniche continua il 1 luglio a campo nell'Elba con l'inaugurazione della mostra dei documenti del territorio di campo 1814-1815. L'esposizione curata da Gloria Peria e Leonello Balestrini sarà allestita nella sala del Consiglio Comunale. L'inaugurazione alle 21. Il 10 luglio a Rio Marina alle ore 10 sarà allestito il mercato ottocentesco di arti e mestieri. Alle 18 Napoleone visita il paese minerario alle 21.30, Gran Ballo in piazza con la partecipazione della scuola di danza Circolo Pisano diretta da Simonetta Balsamo. Il 13 luglio a Porto Azzurro alle 21 Napoleone Bonaparte arriva con il suo seguito alle 22 Gran Ballo in piazza. Il 25 luglio il mercato ottocentesco si sposta a Rio nell'Elba sempre la mattina alle ore 10. Alle ore 18 arriva Napoleone con il suo corteo per assistere al Teddeum nel suomo del paese. E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con la notizia che Acqua dell'Elba, la casa profumiera elbana, ha aperto un nuovo negozio questa volta a Lucca. Si tratta del negozio numero 24 e si aggiunge a tutti gli store sparsi un po' in tutta Italia. Vediamo il servizio. Acqua dell'Elba conquista anche Lucca. Ha aggiunto un altro monomarca, il numero 24, alla lista di negozi presenti oramai in varie parti d'Italia. È stato inaugurato il 25 giugno scorso il negozio a Lucca in via Fillungo 114, promotrice dell'iniziativa Angela Menichetti, amica dell'Elba e persona che ha creduto nel marchio elbano al punto da avviare il negozio nella città toscana. Come a Come Venezia, il negozio di Lucca nasce da un rapporto di fiducia e collaborazione tra Acqua dell'Elba ed un partner che investe nella credibilità ed eccellenza della marca di profumi di nicchia creati all'isola d'Elba. Dopo Firenze Siena con Lucca si può dire che la Toscana è stata oramai conquistata da Acqua dell'Elba che continua ad esportare i suoi apprezzati profumi anche nel nome di un territorio, l'Elba, che acquisisce anche in questo modo sempre più visibilità ed immagine. Bene, e con questo si chiude il nostro telegiornale. Grazie di essere stati con noi anche questa sera. A voi tutti una buona serata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.